Ehi a coso, salute coso, devo salutare, devo avere notizie, e quella ricevuta, sai della ricevuta? E poi, io mi preoccupo anche della tua salute, voglio sapere male immagini verdura, ti piace la verdura? Che c'è gente a cui piace la verdura, e mi chiedevo se a te ti piace la verdura, ti piace la verdura coso, ci si vede coso?